Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monospor 07. Il tempo non è certamente dei migliori, ma la situazione in Ferrari sembra effettivamente sicuramente una delle migliori, però finora l'obiettivo che si era posto fin dall'inizio anno era quello di arrivare ai terzi. Alla fine abbiamo messo ancora una volta un mattoncino davvero molto molto importante per la conquista di tale campionato. Una Ferrari che finalmente convince, convince in termini di siamo la terza forza del campionato, sì lo sono. E insomma, ora ha vinto Hamilton, ma io aspetterei ad esaltarlo. Lo esalterei più per un altro motivo che per la rimonta dall'ultima alla prima posizione. Allora, Hamilton partiva con una vettura dove, eccetto il sorpasso che ha fatto alle Red Bull, secondo me gli altri sorpassi non voglio sminuirlo, perché se si fosse trovato Bottas al suo posto non credo avrebbe fatto una rimonta simile. Ma sono cose che, secondo me, sono all'ordine del giorno. Se pensiamo al 2018, ogni volta che Vettel, Raikkonen, Bottas, Hamilton, Verstappen e Ricciardo, ovvero i tre top team, che sono praticamente anche i tre top team di ora, ogni volta che si giravano rimontavano almeno fino al sesto posto. Perché sono tre top team, fai per due piloti, sono sei. E insomma, ragazzi, quindi questo è. Cioè, non c'è tanto da dire altro. Tanto comunque, ragazzi, il tempo si è numerato tanto. Ora, se non accendo la luce, praticamente non vi vedete. Però, ragazzi, dicevo, secondo me bisogna un attimo aspettare per sopravvalutare queste imprese di Hamilton. Io non sono né uno che va contro Hamilton, ma neanche uno che ci va troppo appresso. Non so se vi ho reso bene l'idea. Però Lewis Hamilton, secondo me, va più esaltato per il fatto che questa è la sua prima vittoria in pista con Verstappen. Perché è vero che la Mercedes ne va più della Red Bull, ma è anche vero che, secondo me, Lewis Hamilton ne aveva leggermente di più di Max Verstappen. Forse per le 3.000 motivazioni che aveva. Però erano 16 Gran Premi, e non sto scherzando, ragazzi, erano 16 Gran Premi o 15, dove Lewis Hamilton non batteva in pista Max Verstappen. Perché lo ha battuto in Gran Bretagna, ma con Verstappen fuori dai giochi. Cioè, quando ha vinto, dico, eh. Ha vinto in Gran Bretagna Hamilton, ma con Verstappen fuori dai giochi. E ha vinto in Russia sempre con Verstappen fuori dai giochi. Le altre volte Lewis Hamilton è sempre arrivato dietro Max Verstappen, quando Verstappen praticamente era in gioco. Diciamo pure così, ragazzi, va. Quindi, è una vittoria sicuramente di estrema importanza per Lewis Hamilton, soprattutto per il Morare. Perché erano tantissime gare che non vincevano in pista. È un confronto simile ed è incredibile come Verstappen per 15 Gran Premi. Quando entrambi hanno corso, ha sempre battuto Hamilton e si ha davanti solamente di 14 punti. Infatti Verstappen ha minimo 50 punti da recriminare tra Gran Bretagna, Azzerbaigiani e Ungheria. Dico minimo 50, vuol dire che a tutte e tre, per esempio, deve finire secondo. Sappiamo benissimo che in Gran Bretagna avrebbe potuto vincere, in Azzerbaigiani era primo con tanti secondi di vantaggio e in Ungheria comunque se la giocava a minimo per un posto sul podio. Quindi stiamo parlando di un primo, secondo e terzo. Parliamo praticamente di minimo 60 punti. Ve ne ho detti minimo 50 nel caso, in queste gare non si sa mai, gli capitava qualcosa, faceva l'errore, Bottas lo superava, non lo so. Quindi per me è più un'impresa quella di Leclerc, per esempio in Gran Bretagna, che con una macchina come la Ferrari che va un secondo al giro, direi con la fionetta della Mercedes, è riuscito a battere Bottas e Perez e non solo. Stava riuscendo anche nel battere Lewis Hamilton, quindi secondo me è più un'impresa quella. E il fatto che sta che Hamilton ha fatto comunque una grandissima gara, questo non glielo toglie nessuno. Però non la vedo proprio in impresa ai tempi di oggi, dove secondo me quando c'è troppa differenza tra un team e l'altro, soprattutto in un circuito come Brasile, perché quando esci dall'ultima curva, che poi in realtà non è l'ultima, però, insomma, ne esce veramente bene. La Ferrari che finalmente è terza nel mondiale, potrebbe arrivare terza nel mondiale praticamente in ciabatte ormai, perché con tre gare al termine siano 31 punti di vantaggio, è un'auto praticamente più performante. Il divario con Red Bull però, con Red Bull e Mercedes, si è allungato rispetto all'inizio anno. Si è allungato questo divario, certo, l'anno prossimo saranno completamente altre macchine. C'è un secondo al giro da recuperare di aerodinamica, però, insomma, le macchine rispetto all'inizio anno sono cambiate. Basta vedere che in Austria, che è un circuito praticamente uguale al Brasile, e la Ferrari e la McLaren erano comunque vicine alla Red Bull e alla Mercedes, tant'è vero che Norris ha battuto Perez e ha battuto Bottas in Austria. No, Bottas no, ma Coso, Hamilton sì. Hamilton sì, quindi, insomma, in quei tempi c'era comunque meno divario tra i top team, tant'è vero che oggi Perez non fa praticamente più fatica ad arrivare nei primi quattro, perché se Mercedes e Red Bull sono effettivamente le vitture più veloce, deve necessariamente stare qualcuno nei primi quattro. E se magari possiamo dire che era arrivato a podio nelle precedenti tre gare in Turchia, perché si era tirato fuori da solo Leclerc ed era partito dietro Hamilton negli Stati Uniti, si era tirato fuori Bottas e nel Messico Bottas è stato buttato via da Ricciardo, se possiamo dire che lì Perez, vabbè, 4-1 fa 3, questo circuito comunque non ha fatto errore nessuno e quindi è finito quarto. Io continuo a definire Perez leggermente inferiore a Bottas come velocità, perché come scudiero, come pilota è sicuramente meglio Perez, anche se Bottas è semplicemente più corretto in un corpo a corpo. È stato scorretto solo in Ungheria con Vetter, per farvi capire. Vabbè. Sainz per la seconda gara consecutiva l'ho visto superiore a Leclerc, però alla fine Leclerc è quello che termina davanti, perché è quello che azzecca la partenza. Sainz l'ha azzeccata nello sprint race, la partenza e Leclerc l'ha azzeccata in gara. E purtroppo sono cose che capitano. Comunque se volete memorare sulla sprint race è praticamente inutile. A parte la partenza non serve praticamente a un emerito o cazzo. La partenza e le rimonte di se per esempio qualcuno di Top Team parte da dietro, perché per il resto questa sprint race la vede una cosa inutile, perché i piloti non rischiano sapendo che si giocano troppe posizioni per la domenica nel caso di un incidente, quindi la trovo una cosa praticamente inutile. Poi non so, fate voi. Sainz diventa, con il ritiro di Ricciardo, l'unico pilota da aver portato a termine tutte le gare, di cui solamente due fuori dei punti, insieme a Giovinazzi. Giovinazzi è l'altro che ha portato a termine tutte le gare. Ah, e Kubizana. Vabbè, Kubizana, penso che non conti molto. Quindi ragazzi, il duello Verstappen-Hamilton, ora ci sono da chiedere un attimo le diatribe che ci sono state per i sorpassi. Allora, io dico che secondo me Verstappen non andava penalizzato, non sia quando ha cambiato la traiettoria, non andava penalizzato e neanche quando si è difeso. Ora vi spiego il perché. I due cambi di traiettoria sono una cosa da bandiera bianco e nera nel caso poi l'avversario non ti supera. Se poi l'avversario ti supera o gli cedi, se l'avversario non ti supera, perché se non ti supera o gli cedi la posizione o ti becchi 5 secondi di penalità. Nel caso invece che, come ieri, che Hamilton è passato lo stesso, diciamo che tra virgolette ci può stare. Almeno questo dice il regolamento. Ciò che non dice il regolamento è la soggettività più che altro nell'espressione lasciamoli andare, come quando Verstappen ha praticamente chiuso e Hamilton e siano finiti entrambi fuori pista. E io penso che se ieri si dava penalità a Verstappen, Hamilton non lo superava più e si finiva in stile Canada 2019. Quindi io penso che avrebbe ammazzato moralmente lì la gara e soprattutto il pubblico, quindi l'hanno fatto per il pubblico, ma non puoi ragionare con l'ottica ah vabbè lo faccio con il pubblico, ah vabbè non lo faccio per il pubblico. In questo caso, secondo il mio punto di vista, bisogna più ragionare su altre diatribe, chiamiamole così, come un'oggettività in questi duelli. Quindi o dai sempre penalità o non dai mai penalità. E quindi, ma forse è un po' meglio la seconda, sempre per quanto riguarda le difese al limite. Poi Vettel sono un po' di gare, sono tre gare consecutive che batte Stroll, ha ottenuto sette punti in tre gare che comunque fanno brodo, la Stalmartin ormai non ha più nulla da giocarsi, deve proteggere quel settimo posto, che comunque hanno 50 punti di vantaggio, se non sbaglio, sulla Williams. No, ne hanno 45, però ragazzi ormai sembra praticamente diciamo scritto che arriveranno settimi, perché distano praticamente la stessa lunghezza da Alfa Tauri e Alpine che si giocano il quinto posto. La differenza tra Alfa Tauri e Alpine è che l'Alpine ha due piloti, non ha solo Fernando Alonso, smettiamolo con sta cosa che l'Alpine ha solo Fernando Alonso. Fernando Alonso all'età che ha mette le palle in testa a tanti, io non so se mi sarei preso piastri o meno, però non dobbiamo neanche scordare che Estebano con culo o non culo ha battuto nove volte quest'anno Fernando Alonso, di cui cinque volte nelle prime cinque gare. Questo forse è un po' un alibi per Alonso, perché nelle prime cinque gare, però secondo me l'Alpine ha due piloti. Basta pensare che tra Alonso e Gasly balano veramente tantissimi punti. Gasly ha 30 punti e più di Alonso, che per essere dei team da 100 centro classifica, dico 100 centro classifica perché Ferrari e McLaren stanno un gradino sopra e Red Bull e Mercedes due gradini sopra. Quindi se Ferrari e McLaren terminano sempre a punti, praticamente si giocano i punti dal nono posto in poi e sono due punti a gara se arrivi sempre in uno dietro alle McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes che sono molto superiori a te. Quindi due punti a gara significa 40 punti alla fine dell'anno, quindi già avere 92 punti per Gasly è una cosa veramente straordinaria, grande differenza hanno fatto sicuramente il quinto posto in Ungheria, ottenuto anche un po' a culo, sappiamo che si è ritirato a lì mezzo mondo. Il podio in Azerbaijan è veramente importantissimo e i quarti posti davvero da strappa lacrime in Olanda e in Messico. Quindi veramente ha fatto delle prestazioni bellissime. Gasly per il quale secondo me si attinge un problema perché Gasly rispetto a quando era in Red Bull, perché uno dice non è che era diventato un fenomeno, no ragazzi, Gasly anche l'anno che è stato in Red Bull ha terminato quell'annato davanti ad Albon e ha terminato davanti ad Albon non neanche di pochissimo perché comunque 10 punti di vantaggio le aveva, perché in Red Bull ha ottenuto più punti Albon di lui, ma in Alfa Tauri Gasly ha fatto il quadruplo dei punti di Albon, letteralmente, anche con quel podio che tutti sappiamo che ha conquistato in Brasile. Quindi davvero super Gasly, però c'è da dire che rispetto a quando era in Red Bull è migliorato sul passo gara, sulla qualifica, ma secondo me il mio punto di vista non è migliorato nei sorpassi. Io penso questo, ieri ne ha fatto vedere alcuni belli, è un po' ma smentito, però Gasly in Red Bull perdeva posizione e non riusciva a recuperarle. Bisogna vedere se riesce quando sarà in Red Bull nel 2023, anche se io sinceramente l'avrei già preso per il 2022, bisogna vedere un po' cosa riesce a fare questo Gasly, perché comunque è l'unico che corre in Alfa Tauri, perché ha 30 punti più di Alonso, ma Ocon allo stesso tempo ha 30 punti più di Tsunoda. Pensate che Tsunoda guida in Alfa Tauri, che è una forza della natura, secondo me l'Alfa Tauri ha prestazione a molto più potenziale, secondo me, dell'Alpin, eppure Tsunoda è addirittura dietro le due Aston Martin, ok, una delle due Aston Martin, un quattro volte campione del mondo, ma che prendi sei punti da Astro, lo trovo un po' ridicolo, soprattutto se gli unici punti di Tsunoda, quelli con le prestazioni migliori, li ha ottenuti in Azerbaigiano, con Mezzamondo che si è ritirato, e in Ungheria, che è praticamente la stessa cosa. Per il resto, esclusa queste due gare, gli unici punti di Tsunoda li ha presi con un nono posto negli Stati Uniti, anche lì si è ritirato Mezzamondo, e soprattutto i suoi rivali, ovvero Gasly, Alonso, con se non lo ritirati, se la doveva vedere solamente con le due Aston Martin, ci è arrivato davanti, perché l'Alfa Tauri era più prestazionale lì. L'ottavo, no, che ottavo, il nono posto nella prima gara in Bahrain, forse la sua miglior gara della stagione, strano per un novellino, e i decimi posti in Stiria e in Gran Bretagna, quindi sicuramente non è la migliore delle situazioni per Tsunoda, così come non è la migliore delle situazioni per Norris, che nelle ultime, quante sono? Nelle ultime nove gare, ragazzi, solamente una volta è finito nei primi sei, nelle ultime nove gare, questo è un dato veramente importantissimo per Norris, che aveva molti punti di vantaggio, adesso li sta perdendo tutti, senza ritirarsi, perché ragazzi, l'Eclerc, che sta a molti punti dietro, che sta a pochissimi punti dietro Norris, ovvero tre, si è ritirato una volta in più, si è ritirato una volta in più, e se vogliamo prenderlo come un ritiro, diciamo così, quella prestazione è male andata in Russia, è vero che anche Norris ha perso punti lì, per carità, però l'Eclerc ha tre punti e meriterebbe, secondo me, la posizione su Norris quest'anno, anche se il divario tra l'Eclerc e Norris da così è diventato così, l'Eclerc però è ancora qui, e se faccio una gradatoria generale, io rispetto all'Eclerc vedo Hamilton e Verstappen qui, e Norris qui, Russell bisogna vedere come si troverà il Mercedes, io non giudico mai quando uno non arriva bene in un top team, ma Russell è qui, secondo me sullo stesso livello di Leclerc, se la giocano ecco ragazzi, se la giocano, detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto, rimedio a lasciare un mi piace, se al contrario, un dislike, commento se siete d'accordo, se siete d'accordo con me, se non è ancora fatto, iscrivete al canale, in descrizione il link, prescrivetevi su Instagram, da Monesporti07, è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!